Monsignor Michele Seccia, qual è la riflessione per la giornata di oggi che tra le altre cose apre anche le festività natalizie? Mentre ci prepariamo a Natale guardiamo a Maria, Madre di Gesù e Madre Nostra, questa Madre del Cielo, ma anche Madre di ogni creatura, di ogni persona, che ci indica come e perché dobbiamo totalmente confidare in Dio pur attraversando tutti i momenti e le situazioni della nostra esistenza. Da Maria ci viene una lezione straordinaria di speranza, perché dopo aver detto il proprio sì, si è lasciata condurre totalmente. Purtroppo a volte non ne abbiamo fatto solo, come dire, un'immagine, un modello, una santa come le altre da invocare, ma io vorrei che guardassimo alla santità, ma soprattutto all'umanità di Maria per il suo modo di affidarsi alla volontà di Dio. Stamane è stato molto bello nella Chiesa di Campli alle 5 celebrare la Santa Messa davanti ad una Chiesa pienissima che ricordava i 250 anni di un atto di affidamento totale di quella comunità proprio all'Immacolata che è la protettrice di Campli. Ecco, io mi auguro che questi momenti non siano solo di fede passeggera, popolare, ma lasciano una traccia profonda in ogni famiglia, in ogni persona. E buon cammino verso Natale, anzi buon cammino verso Gesù, che è meglio.